Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro all'interno del porto 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. I finanziari del secondo gruppo, nel contesto di specifiche attività di analisi di rischio e di osservazione del territorio, hanno individuato nell'area portuale partenopea una zona di circa 600 metri quadri in cui erano ammassate tonnellate di rifiuti speciali, parte dei quali classificabili quali pericolosi. Il sito di stoccaggio illegale si trovava in un piazzale utilizzato da una società per sosta e movimentazione di container. Sono state inoltre individuate dalle fiamme gialle anche grazie a sopralluoghi effettuati dal personale dell'ATPAC di Napoli e dell'area tecnica dell'autorità di sistema portuale del Martireano Centrale perdite di fluidi provenienti dai mezzi pesanti che sono confluiti nel fiume Pollena che affluisce direttamente al mare. Al termine l'intera area è stata sottoposta a sequestro e il responsabile, un 50 tene di Pozzuoli, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale e attività di gestione, deposito e stoccaggio di rifiuti non autorizzata.